Anche le volanti della Polizia di Vicenza e il commissariato di Bassano da oggi sono dotati di tablet. È il primo step di quello che più globalmente si chiama sistema Mercurio. I tablet consentiranno un più rapido ed efficace dialogo tra gli agenti in servizio e la sala operativa. Consente l'immediata geolocalizzazione della pattuglia in servizio, che potrà inviare e ricevere in tempo reale dalla centrale informazioni, dati sul veicolo o sulla persona da controllare. Il passo successivo sarà l'installazione sulle vetture in servizio di una telecamera, che una volta attivata, ad esempio in caso di inseguimento o altro intervento, invierà sempre alla centrale operativa del quinto piano della questura in Viale Mazzini immagine e audio in tempo reale. Video che mostrano quanto accade e diventano prova certa. Un sistema che di fatto consente di dimezzare sensibilmente le tempistiche delle operazioni e non solo. Allo stesso tempo di agire con più sicurezza da parte degli operatori, che saranno messi nelle condizioni di conoscere quasi istantaneamente appunto il contenuto, la risposta delle loro interrogazioni e permettere anche di ottimizzare le risorse che abbiamo a disposizione. Poi il sistema verrà ampliato, implementato con altre dotazioni. Noi ci auguriamo entro la fine del 2018 di poter avere tutto il sistema nella sua interezza, completezza e funzionalità. Utile nel controllo degli autoveicoli e delle persone, se prima veniva utilizzato a spot negli eventi fieristici o sportivi, grazie al reparto prevenzione e crimine che ne è dotato, adesso sarà dotazione a tutti gli effetti del reparto volante di Vicenza.